Benvenuti sul canale di Non Aperito Questo Blog, qui è il Gons e oggi vi voglio parlare di The Block Island Sound un film uscito da poco su Netflix, un film horror, un film diretto da Kevin e Matthew McManus che sono due fratelli credo, perché hanno lo stesso cognome, arrivato su Netflix da poco la storia racconta di questa famiglia che vive in un'isola, una famiglia di pescatori il padre vive ancora con il figlio, le due sorelle sono andate via il padre inizia a svalvorare, e allora le due sorelle tornano da lui per stare un po' insieme e poi a un certo punto succede qualcosa di grave che scombinerà un po' tutte le loro vite cerco di non spoilerare troppo e vi parlo del film senza svelarvelo troppo poi magari nella parte dopo facciamo una parte un po' più spoiler questo è un film che ha una buona idea di base, un bel soggetto io non mi ero documentato quindi non sapevo nulla del soggetto e all'inizio pensavo fosse qualcosa di un po' Lovecraftiano cioè che avesse a che fare con creature e mondi paralleli, mondi oscuri alla Lovecraft in realtà la storia almeno mi ha sorpreso perché non me l'aspettavo così quindi in questo è stato un film abbastanza interessante tratta un tema abbastanza inflazionato ma appunto siccome non mi aspettavo che parlasse di quello è stato anche originale in questo senso non so bene se questo è un film Netflix oppure no teso a livello di produzione ma la sensazione che ho avuto anche se potrei sbagliarmi è che questo sia un film Netflix perché l'ho trovato particolarmente rozzo su certi aspetti quindi diciamo cheap, povero ma non nel senso di indipendente ma più nel senso di film per la tv ecco ci sono degli aspetti abbastanza gestiti male sia in termini di regia dove abbiamo una regia non particolarmente brillante e omogenea ci sono anche delle situazioni non girate benissime e poi è una sceneggiatura che va molto a rilento e che fondamentalmente non riesce a usare questa lentezza per creare una suspense che dovrebbe poi sul finale raggiungere il suo apice infatti quando arriveremo sul finale che è un finale che comunque interessa e incuriosisce sapere che cacchio succede ci arriveremo in maniera molto pacata non saremo molto coinvolti dalla storia e quindi in questo secondo me è un film che non è riuscito perfettamente e che comunque ha anche tra i suoi difetti anche una recitazione un pochino sottotono insomma non li ho trovati molto convincenti sia in termini proprio di prestazione attoriale sia proprio per le battute che hanno e la sceneggiatura che comunque secondo me non funziona ci sono delle cose che non tornano di per sé è un film che comunque ha una sua dignità soprattutto perché ha una storia dietro abbastanza intrigante e un sottotesto carino che però vi spiegherò nella parte spoiler se il video vi è piaciuto mettete like passiamo alla parte spoiler quindi se non l'avete visto stoppate il video allora ci sono delle cose che non mi tornano nella sceneggiatura perché comunque alla fine è veramente molto tirata per le lunghe e ci sono anche delle reazioni e dei comportamenti poco credibili come appunto le reazioni della sorella diciamo quella più materna delle due che alla morte del padre sembra veramente reagire con una freddezza illogica c'è un affetto che viene esplicitato verbalmente ma che poi non viene dimostrato emotivamente quindi questa fratellanza io non l'ho percepita mi è piaciuto però il rapporto il rapporto di amore e amicizia che c'è tra padre e figlio e che è stato un po' spiegato a livello proprio mio personale mi ha colpito ma non c'è molta emotività in questo film e quindi non sentiamo la paura per i personaggi non empatizziamo con il protagonista non empatizziamo con le sorelle non empatizziamo col padre alla fine insomma arriviamo solo con un minimo di curiosità a chiederci che cacchio succede in mezzo al mare in quel punto lì dove le radio fanno quegli strani rumori c'è anche questo astio nel villaggio nella cittadina nei confronti del ragazzo e comunque della famiglia che non è spiegato quindi è del tutto ingiustificato e ti fa solo immaginare dei grandi punti di domanda e rimani lì un po' basito la storia però ha un'idea bella perché stiamo parlando alla fine di extraterrestri e io non me l'aspettavo questa cosa pensavo a dei mostri, delle robe un po' così invece no stiamo parlando dei banalissimi extraterrestri e in questo caso non sono neanche cattivi insomma alieni alieni scienziati perché capiamo dalla storia che sono alieni che studiano gli esseri umani i cani, i gatti qualunque cosa ci sia sul nostro pianeta e usano questa forma di controllo mentale per farsi portare le cose insomma le cose da altri umani quindi alcuni muoiono alcuni li rimandano sulla terra e loro cinicamente usano questi esseri umani li analizzano e fanno tutti i loro esperimenti la protagonista donna è anche lei una scienziata che prende i pesci li studia e poi li ributta in mare e la figlia gli dice ok ma non li butti tutti in mare poi alcuni muoiono e lei dice si muoiono ma muoiono per far star bene tutti gli altri quindi in questo cinismo viene rappresentato questa sorta non di allegoria ma di punti di vista cioè la stessa situazione si ricrea con gli alieni che vedono noi come cose da studiare e cinicamente se ne sbattono di quello che proviamo come noi ce ne sbattiamo totalmente di quello che può provare un pesce o un topo da laboratorio allo stesso modo loro se ne sbattono e questo crea una situazione orrorifica e spaventosissima per noi perché veniamo controllati portiamola a persone cose che vengono sezionate e uccise in alcuni casi è molto interessante questo punto di vista questo doppio punto di vista noi come dei pesci da analizzare e i protagonisti guarda caso anche la protagonista è una studiosa che la stessa cosa che subisce la fa agli animali quindi questo tipo di binomio tra le due vicende l'ho trovato molto interessante e simpatico purtroppo la realizzazione del film è quello che non funziona non crea la giusta suspense c'è qualcosa di un pochino come dire spaventoso proprio qualcosina perché c'è un ottimo uso dei suoni delle musiche in certi punti però soltanto però questo non basta creare un film che possa definirsi insomma memorabile diciamo che ha una sua dignità però non è appunto un film che si può giudicare particolarmente rilevante mi è piaciuto molto il sottotesto anche se l'ho trovato un po' di da scalico ecco nella sua esposizione abbastanza ingenuo come è stato esplicitato però alla fine ci sta niente questo è tutto per la recensione diciamo la mia opinione l'analisi di The Block Island Sound fin del 2020 ponibile su Netflix scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto mettete like se vi va se no niente va bene anche così ci vediamo al prossimo video ciao ciao